La tenuta di Corbara, al cui interno sorge il ristorante Il Caio, è una location ideale per matrimoni ad Orvieto. Immersa in una secolare vegetazione circondata da vigneti, uliveti e terreni coltivati, mette a disposizione dei suoi ospiti un grandioso territorio, tutto da scoprire, assaporare ed esplorare. Il ristorante Il Caio si sviluppa in due ambienti che sono in grado di adattarsi alle più varie esigenze di spazio e capienza. La sala principale vanta un'atmosfera calda e accogliente, tipica delle antiche strutture rurali. L'altra sala, più raccolta, si addice a un ricevimento intimo o ai momenti di relax con i vostri invitati. Gli spazi verdi e lussureggianti degli esterni, con le piscine e gli idilliaci angoli panoramici, sono il luogo ideale per raccogliere i vostri invitati e organizzare un delizioso aperitivo di benvenuto, un dolce taglio della torta o l'allestimento di una romantica cerimonia noziale. Il personale della struttura e la rete di fornitori con i quali collabora si prenderanno cura dei dettagli dell'evento. Allestimenti, addobbi floreali, servizio fotografico, servizio make-up e acconciatura, musica, animazione. Presso la tenuta di Corbara riceverete una consulenza a 360 gradi. Grande passione nella manifattura di pasta, pane e focacce. Sapiente fusione di sapori e accostamenti particolari rendono la cucina del ristorante Il Caio prelibata e gustosa. Basata sulle ricette della tradizione umbra, questa deliziosa proposta gastronomica si accompagna all'accuratezza del servizio e alla greste eleganza della struttura. Presso la tenuta di Corbara troverete il luogo ideale dove realizzare il vostro ricevimento di nozze e offrire un'autentica ospitalità ai vostri invitati.